Un evento sismico di magnitudo 5.1 ha interessato l'entroterra della località cosiera di Paleocora situata sul versante meridionale dell'isola greca di Creta. Questa notizia è stata comunicata dall'Istituto Geosismico degli Stati Uniti tramite il suo sito globale costantemente aggiornato. La scossa ha avuto luogo a una profondità di 10 km all'interno della crosta terrestre. L'epicentro di questo sisma, verificatosi nell'area marina, a una profondità di 10 km, è stato individuato a sud della regione di Cagni che si trova a circa 300 km di distanza da Atene. Informazioni preliminari riferiscono che non sono stati riscontrati danni conseguenti a questo terremoto. Grazie a tutti!